Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La principessa Anna d'Inghilterra, 73 anni, è stata vittima di un brutto incidente e è stata trasportata d'urgenza in ospedale. La sorella di re Carlo III è caduta nella giornata di lunedì 24 giugno 2024, nella sua tenuta di Gatcom Park. Una nota ufficiale diffusa da Buckingham Palace ha confermato che la principessa ha riportato lievi ferite e commozioni cerebrali a seguito dell'incidente avvenuto nella tenuta. Attualmente è ricoverata presso il South Mead Hospital di Bristol solo come misura precauzionale in osservazione. Si prevede che si riprenderà completamente e rapidamente. Re Carlo, che sta lottando contro il cancro, è stato immediatamente informato dell'incidente della sorella Anna. Il sovrano si unisce alla famiglia reale nel mandare il suo affetto e auguri alla principessa per una pronta guarigione. La notizia dell'incidente ha destato preoccupazione tra i sudditi britannici, che seguono con apprensione le vicende della famiglia reale. La principessa Anna è nota per il suo impegno e la sua dedizione ai doveri reali, ed è molto amata dal popolo britannico. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'incidente, ma si spera che la principessa possa riprendersi al più presto. La famiglia di Harry, Regno Unito, tende a essere un'idea di non avere dei positivi e sostegno alla principessa Anna.